Iniziamo con i nostri approfondimenti e parliamo della nuova stazione ferroviaria di Taranto. Sì, partono ufficialmente i lavori, ma bisognerà attendere qualche annetto per vederla nella versione completa, una trasformazione importante e notevole, ce la racconta Valentina Castellaneta che ieri era proprio lì alla stazione. Per vederla completata bisognerà aspettare giugno 2027 e il 2026 per le parti salienti, ma i lavori di riqualificazione della stazione di Taranto sono ufficialmente iniziati. Rete ferroviaria italiana del gruppo Ferrovie di Stato ha avviato i cantieri, atrio, corridoio, biglietteria, ascensori che collegheranno ai binari un secondo accesso per il piazzale antistante, sono tante le novità. Sarà accessibile a tutti e connessa all'area croce, la zona che si trova alle spalle, attraverso un nuovo parcheggio di interscambio, circa 40 posti auto. Qui nascerà anche un terminal bus e la fermata delle BRT. Il piazzale invece cambierà completamente volto, così come accadrà in seguito con il boulevard che collega al ponte di Pietra. Interventi studiati e progettati insieme al comune, ha spiegato il tecnico di RFI Antonello Martino, responsabile per l'ingegneria e gli investimenti. Su Taranto c'è un impegno molto importante, 38 milioni di euro di investimenti, 20 con fondi PNRR, 18 con fondi del contratto di programma. Verrà prolungato il sottopasso, verrà aperto il secondo fronte, ma soprattutto il secondo fronte sarà dotato di tutti i servizi di accessibilità. I cantieri sono partiti dagli interventi prioritari di accessibilità della stazione, con l'installazione di ascensori vetrati sui binari e l'innalzamento dei marciapiedi, per agevolare la salita e la discesa dal treno, previsti anche interventi di adeguamento delle scale, una nuova illuminazione, l'installazione di sedute e percorsi tattili per i povedenti lungo i marciapiedi. I lavori procederanno per fasi, in modo da rendere fruibile lo scalo per tutto il periodo della cantierizzazione. Per l'assessore ai trasporti e alla mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento ci sarà da fare qualche sacrificio anche nei periodi di maggiore affluenza, ma ne varrà la pena. Certo, è un investimento importante che si sta facendo su questo territorio, dove comunque diventerà un hub di interscambio fondamentale tra il trasporto, l'RBT, tra i porti, tra le ferrovie, è qualcosa che comunque avrà da raccontare nuove prospettive. E su questo avere una stazione che è messa al centro, sia dal punto di vista dell'accoglienza, della sicurezza, che sono al primo posto, ma soprattutto anche della sostenibilità, perché sono quelle caratteristiche che oggi devono portare avanti i lavori che si stanno facendo su tutte le hub che riguardano la Regione Puglia e non solo, perché questi sono lavori che con il PNRR stanno avvenendo un po' in tutta l'Italia. E credo che su questo siamo sul giusto binario per dare una giusta riconoscenza a questo territorio, che è importante. Insomma ci sarà un po' da sacrificarsi, ma insomma speriamo di vedere i frutti. Ne vale la pena, dai, insomma i rendering sono sempre la cosa più bella da vedere, poi bisogna vedere insomma la differenza con la realtà, però insomma noi ce ne ricorderemo. Ecco ci auguriamo che davvero sarà così, nel frattempo ci fermiamo, niente stazione per noi, noi rimaniamo qui, fermi, non si parte, ma si resta negli studi di Studio Cento a fra pochissimi. Bentornati, questa è Buongiorno Taranto di Buon Mattino con Marina Luzzi, Francesco Casula, Piero Caffio l'abbiamo già citato, ma c'è anche il buon Peppe Candelli in regia. E adesso parliamo della Corte d'Appello di Taranto che ieri ha festeggiato i 30 anni di vite e di attività, il bilancio è stato fatto ieri nel corso di un incontro a cui ha partecipato Dario Mori, direttore di Studio Cento e ha intervistato per noi il presidente della Corte d'Appello di Taranto che è il dottor Pietro Genoviva, l'avvocato generale Achille Bianchi, il presidente della Corte d'Appello distrettuale di Lecce che comprende anche quella di Taranto, Carelli Palombi e infine la presidente del Tribunale di Sorverleanza, Lidia De Iure. Questo è il suo servizio. Un anniversario importante fra traguardi raggiunti e sfide per il futuro. Beh certo, 30 anni sono una bella tappa. Io penso che possiamo essere tutti orgogliosi di questa istituzione giudiziaria che dà il lustro alla città e ci consente di sperare bene anche per il futuro. Dalle statistiche risulta che noi siamo veramente in testa agli uffici giudiziari italiani per produttività, anche come obiettivi di conseguimento del PNRR. Ma al di là della quantità, secondo me è significativa anche la qualità del nostro lavoro. Noi siamo riformati pochissimo in Cassazione e questo ci conforta nel fatto che non solo produciamo in termini di quantità ma anche di qualità. Questo è un bel momento perché celebra il riconoscimento ad una città che non dimentichiamo è la terza città dell'intera Italia meridionale. È una città della quale non devo ricordare io e i millenni di storia che ha alle spalle la cultura doveva avere questo riconoscimento come l'istituzione di un ufficio importante che è quello della sezione di staccata della Corte ma che ha implicato anche la presenza del Tribunale di Sorveglianza e del Tribunale della Procura per i minorenni che sono presidio di legalità per il territorio. All'interno della Corte d'Appello di Lecce ho potuto constatare che è veramente un'eccellenza alla sezione di staccata di Taranto sia con riguardo agli uffici di primo grado che con riguardo alla sezione della Corte d'Appello. Certo le difficoltà per il futuro sono tante, sono tante determinate in particolare dalla scopertura dei posti in organico, in particolare del personale in magistratura. Per quello il mio invito più forte è al Consiglio Superiore della Magistratura a provvedere immediatamente alla copertura dei posti e di Presidente di sezione e di consigliere presso la Corte d'Appello la sezione di staccata di Taranto per poter continuare questa tradizione di eccellenza che in 30 anni è stata dimostrata. Non dobbiamo dimenticare che ci sono stati dei periodi in cui si è pensato di eliminare questa sezione di staccata perché probabilmente la si riteneva eccessiva, superflua rispetto alla grandezza del territorio. Io che mi occupo di sorveglianza posso dire che il Tribunale di Sorveglianza e l'Ufficio di Sorveglianza lavorano veramente tantissimo. Io sono qui dal 2016 e dal 2016 i numeri, soprattutto l'Ufficio di Sorveglianza, si sono quintuplicati. Per cui veramente questo traguardo, arrivare a 30 anni per questa sezione di Corte d'Appello è stato veramente un traguardo fondamentale, estremamente importante. Le domandine, ti ho detto vai tu ma io nel frattempo pensavo. Le domandine, allora spieghiamo facile, che cosa fa una Corte d'Appello? Allora, la Corte d'Appello è fondamentalmente il secondo grado di giudizio. Ok. Che non ha sede in tutti i capoluoghi di provincia ma ha sede solo nelle sedi distrettuali. Per esempio Lecce, Bari, ad esempio Foggia non ha una sua Corte d'Appello. La Corte d'Appello per competente sul territorio di Foggia è Bari. Brindisi non ha una sua Corte d'Appello. Quella competente su Brindisi è Lecce. Giusto per capirci. Quindi da qui, insomma, quello che abbiamo appena ascoltato nel servizio di Dario Muri c'è anche l'importanza di avere questo presidio sul nostro territorio da 30 anni. che nasce anche sull'onda della guerra di mafia vissuta a Taranto a cavallo tra gli anni 80 e 90 e quindi in generale del significativo numero di procedimenti in corso in questo territorio. Ma la cosa che la gente ignora è che avere la Corte d'Appello sul territorio significa avere anche il Tribunale di Sorveglianza, che è quella che valuta il comportamento dei detenuti una volta che la pena è definitiva, ma soprattutto il Tribunale dei Minorenni. E lo diceva, non è servizio. Il Tribunale dei Minorenni, avere un giudice dei minori sul territorio a 20 minuti di distanza dal punto in cui vive il minore è fondamentale. Io ho raccontato storie per Foggia in cui il minore che vive a Bieste ha il suo giudice minorile e il suo giudice tutelare in alcuni casi a Bari. Sono tre ore di macchina e c'è una distanza fisica che diventa anche a un certo punto distanza proprio funzionale dello Stato dai luoghi in cui deve essere amministrata la giustizia. L'importanza poi, appunto, noi con Radio Cittadella abbiamo lavorato tanto con la dottoressa Pina Montanaro che presiede appunto il Tribunale dei Minori e ci ha raccontato tante storie ed è un po' quello che dicevi tu. Il Tribunale di Taranto è nella città vecchia di Taranto e è davvero un punto strategico che con facilità permette a tutti di arrivarci. lì i ragazzi trovano poi anche il riferimento. Tra l'altro è un giudice che sta su questo territorio e quindi in qualche modo riesce a leggerlo questo territorio attraverso l'informazione attraverso la vita reale in questo territorio. Bene, quindi speriamo in altri 30 anni di festeggiare fra 30 anni i 60 della sede di staccata della Corte d'Appello di Lecce quella appunto Tarantino nel frattempo però ci fermiamo 7.56 a fra pochissimo. Sì, adesso parliamo di un'opera considerata strategica una delle più importanti che ci sarà in Italia nei prossimi anni insomma se dovesse andare in porto è il distalatore sul fiume Tara un progetto da 70 milioni di euro finanziato con i fondi del patto di coesione tra il governo e il regione Puglia ma che suscita malumori c'è innanzitutto un parere negativo da parte di ARPA ma poi ci sono comitati e associazioni che dicono no, insomma questo distalatore non sa da fare perché è un bene paesaggistico quello del Tara che va tutelato e il rischio è che il fiume scompaia definitivamente dall'altra parte c'è chi dice l'acqua serve ma la domanda che si fanno appunto le associazioni è ci possono essere altre modalità per recuperarla che non sia questa comunque insomma per parlare di questo ho intervistato Lunetta Franco presidente del circolo cittadino di Lega Ambiente torna di attualità il tema del distalatore sul fiume Tara dopo insomma i fondi di coesione che arriveranno anche per questo progetto 70 milioni di euro qual è la posizione di Lega Ambiente? non possiamo che ribadire in merito al progetto di distalatore sul fiume Tara il nostro totale dissenso lo abbiamo già espresso nelle osservazioni che abbiamo presentato alla regione Puglia e riteniamo che quel denaro sarebbe meglio speso per provare a recuperare le enormi perdite della rete idrica per completare progetti che darebbero molta più acqua sempre progetti dell'acquedotto pugliese quali quelli sul fiume Sarmento e sul fiume Sauro in Basilicata che se completati appunto garantirebbero un approvigionamento d'acqua di gran lunga superiore a quello del distalatore inoltre il nuovo documento dell'ARPA Puglia in merito non fa che confermare le nostre preoccupazioni cioè il fatto che se tutti i prelievi che gravano su questo piccolo fiume cioè quello agricolo quello dell'ILBA e quello del nuovo distalatore che andrebbe ad essere realizzato se tutti questi prelievi fossero appunto realizzati il fiume probabilmente si azzererebbe infine rimane secondo noi una questione assolutamente prioritaria cioè si affronta un problema che è dovuto ai cambiamenti climatici perché chiaramente la mancanza d'acqua la siccità sono uno dei portati del cambiamento climatico rischiando di aggravare il fenomeno che si vuole affrontare perché i distalatori sono impianti estremamente energivori l'energia che andrà ad alimentare questo distalatore secondo il progetto di Acquedotto Pugliese sarà solo in piccola parte energia da fonti rinnovabili e quindi di fatto si va a produrre CO2 che è la causa principale del cambiamento climatico per affrontare un problema generato dallo stesso cambiamento climatico C'è un'altra associazione che si è costituita con il presidente Mario Guadagnolo e poi ci sono varie voci che si sono levate su questo tema pensate di fare squadra tutti insieme C'era già un comitato che si era costituito all'epoca in cui si dovevano presentare le osservazioni infatti noi presentiamo le osservazioni come lega ambiente poi appunto venimmo ma avevamo relazioni con alcuni e delle associazioni che facevano parte di questo comitato tra cui anche il WWF che è aderito a quest'ultima non so se chiamarla associazione o comitato questo gruppo insomma di persone e associazioni diciamo non abbiamo discusso di questa questione ma è chiaro che più si è meglio è nella battaglia e certamente insomma noi riteniamo che sia un progetto sbagliato e da non realizzare quello del distalatore sul fiume Tara Io ho una domanda che è più una battuta strana nel senso ma l'acqua di un fiume non è dolce? Beh? A che serve un distalatore per l'acqua dolce? Eh non lo so chiediamolo ad Acquedotto Pugliese e a chi sta pensando a questo progetto cioè così ti giuro non l'ho capita e probabilmente però magari viene solo chiamato magari viene solo chiamato di salatore non lo so non ce l'ho mai pensato però ci informeremo è dolce scusate è vero è un dubbio scemo è interessante effettivamente probabilmente viene chiamato così per luogo cercheremo di scoprirlo sono le 8 e 13 ci fermiamo per un po' di musica e pubblicità e poi torniamo insieme per parlare di gocce di memoria c'è il nostro Giovanni Guarino non fermiamoci agli anni 90 torniamo ancora indietro nel tempo andiamo veramente a riprendere la nostra memoria dandole diciamo alcune piccole gocce ricorperando la nostra storia e lo facciamo come sempre tanto il benvenuto a questa versione del martedì di Giovanni Guarino buongiorno Giovanni ciao Giovanni buongiorno a tutti e a tutte tutto bene? Giovanni tutto bene grazie a te com'è andato questo weekend? insomma Giovanni c'è stato il weekend dell'immacolata non ti sentiamo in clima di festa la scia della festa è finita in clima di? di festa dopo l'immacolata ah no eh vabbè basta passo santa passa festa la festa è passata è passata è appunto è appunto Giovanni però raccontacelo un attimo com'era la festa come veniva festeggiata l'immacolata e perché Taranto è così tanto legata io sento tanti amici di fuori che mi dicono ma qui l'immacolata ma perché festeggiate così tanto? certo ma perché l'immacolata a parte che il copatrono della città ci ha salvato da un maremoto come racconta la sua geografia due volte due volte dai terremoti uno il 7 dicembre del 1710 ma soprattutto il 20 febbraio del 1743 quando c'è fuoco questo terribile terremoto chiamato terremoto d'oriente insomma e c'è un macello nel Salente insomma nel Mediterraneo orientale ma Taranto non ebbe manco non stuesse del muro da caduti insomma Giovanni correggevi tutti quanti si rifugiarono nella loro convenza di San Francesco ma al terremoto invece del 7 dicembre del 1710 è un po' più legato il discorso del famoso digiuno della vigilia insomma Giovanni corregimi anche se sbaglio la leggenda racconta che la stessa statua dell'immacolata in qualche modo sia cambiata per salvare la città no sì ma è una leggenda della leggenda perché è un vezzo che lo scultore napoletano fece insomma questa idea che le mani congiunte della Madonna anziché perpendicolare al corpo siano spostati perché hanno voluto cacciare il terremoto era come se si sono inventati i tarantini per fare che la Madonna ci voleva proprio bene insomma tanto da spostare addirittura la strada sì no questa cosa nasce appunto tutta la tradizione del del digiuno della vigilia ma voglio dire immacolata è uno dei tanti era uno dei tanti momenti come vi ho sempre detto il Natale Tarantino e tutta la vada Santa Cecilia addirittura sporava a gennaio che era lunghissimo poi man mano si è accorciato ma c'era sempre qualcosa giorno 13 Santa Lucia prima anche il rito di Santa Lucia era molto sentito io non li ho visti ma fino agli anni 50 i tarantini andavano la mattina in chiesa e si riteravano la sera facevano un altro di giù queste natalizie erano momenti di digino certo Giovanni a proposito di festa guardiamo una cosa bella che è ritornata oggi è il momento di fast food incinerante mi senti dicevo parliamo di una cosa bella che è tornata in città vecchia dopo 28 anni la processione dell'immacolata è vero che il maltempo non ha permesso insomma di andare tra i vicoli ai confratelli dell'immacolata però per chi sta guardando la tv vedete anche le immagini c'è stata comunque la processione in abito di ritorno all'interno della cattedrale sono 28 anni che non si faceva eh sì 28 te lo assicuro doveva ritornare la processione delle confraternite l'immacolata in questi ultimi 28 anni qualche volta è venuta a pose non ha fatto non faceva il suo transito tradizionale che era San Michele che era San Michele San Catallo insomma è stato un po' ospite ovunque era un po' una profuga delle chiese sì infatti è tornata a San Michele giusto? è lì che vive è tornata a San Michele è tornata a San Michele è tornata a San Michele adesso bisognerebbe si fa tornare San Michele una chiesa e non un posto un beverage come si diceva all'inglese insomma no? va bene Giovanni noi ci dobbiamo fermare perché sono le 8 e 27 continueremo a raccontare il Natale Tarantino nei prossimi appuntamenti di Gocce di Memoria grazie ancora per essere stato con noi buona giornata Giovanni e dal 13 dal 13 ricordiamoci che a D aumenta la fase di addine cioè riprendono ad allungarsi le giornate dai dal 13 dicembre le giornate ecco perché la festa della luce è legata a Santa Lucia un abbraccio a tutti ciao ciao Giovanni grazie ciao questo pomeriggio alle 18 la biblioteca a Clavio si presenta la seconda edizione del calendario Taranto Solidale 2025 l'ideatrice di questa idea è Tiziana Grassi Battafarano giornalista che abbiamo in collegamento con noi ciao Tiziana buongiorno 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 a voi e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori ciao Tiziana ben trovata allora dicevamo seconda edizione come cambia il calendario rispetto a come l'avevi immaginato il primo anno e raccontaci un po' di questa esperienza che ritorna grazie prima di tutto di questo invito allora questo calendario diversamente dall'anno scorso che invece raccoglieva i volti le espressioni gli sguardi dei Tarantini in 700 fotografie quest'anno vede protagonisti i bambini sono i bambini che sono ospedalizzati nel reparto pediatrico e di pediatria oncoematologica del Santissima Annunziata diretto dal dottor Valerio Cecinati e praticamente quest'anno abbiamo pensato di portare da loro in reparto i colori la speranza i pennelli e quindi le archeologhe del Martà così come le ricercatrici del CNR IRSA e gli artisti della Galleria d'Arte l'impronta sono andati in reparto coordinati dalla dottoressa Montanaro e hanno voluto regalare questi momenti di arte ai bambini che hanno risposto con grande gioia trasformando quindi le loro paure le loro ansie dell'essere in ospedale in messaggi di speranza come dice il nostro concittadino Giovanni Battafarano nell'introduzione di questo calendario questo non è un manifesto soltanto di compartecipazione di solidarietà di tanti tarantini che acquisteranno questo calendario ma è un messaggio di speranza speranza delle relazioni umane significanti e quindi è una sorta di diario di bordo è un progetto di comunità perché hanno partecipato anche 90 associazioni dando il patrocinio morale quindi questa città Taranto ha un cuore grandissimo così come lo ha avuto anche l'editore posa che l'ha voluto pubblicare e quindi mettendoci ancora una volta il suo spirito come dire di imprenditore ma soprattutto di umanista non abbiamo molto tempo e quindi è importante dare anche la possibilità di sapere dove possiamo acquistare il calendario per dare una mano a questo progetto grazie allora questo calendario che naturalmente verrà devoluto all'associazione Simba per le attività in ospedale del reparto si può trovare sia all'info point di Taranto Piazza Castello sia all'unicef in via Oberdan sia al bookshop del museo archeologico e poi da Mondadori dalle paoline e alla libreria di Kent quindi ci sono vari punti di riferimento per i nostri concittadini che vorranno sostenere questo calendario solidale e quindi anche il reparto pediatrico oncologico e allora non resta che vivere anche l'appuntamento di questa sera incontrare questo cuore pulsante della città con la conferenza stampa di presentazione che è prevista per oggi alle 18.30 alla biblioteca Clavio grazie a Tiziana grazie a Battapanalo ringrazio voi ma ringrazio anche la vostra collega Annette che ha regalato con Eddie Olivieri 12 carezze in musica in questo calendario con il QR code si potranno ascoltare anche queste musiche e queste parole questi messaggi di speranza per questi bambini grazie ancora noi la ringrazieremo anche di persona grazie a Tiziana grazie a Battapanalo buona giornata a tutti voi buona giornata ciao e siccome ci ascoltate e ci vedete con molta attenzione ci avete spiegato perché si parla di dissalatore sul Tara in genere Ciccio Casula ci spiegherà perché l'ottima Luigia in realtà che ci ascolta ci ha spiegato che per esempio nel fiume Galeso c'è un grammo e mezzo di sale ogni mille litri di acqua che è una percentuale oggettivamente minima ma evidentemente per arrivare negli standard di acqua potabile per poter arrivare all'interno delle case deve essere eliminato anche quel grammo e mezzo ora immaginate mille litri di acqua un grammo e mezzo ecco sicuramente la proporzione è strana però a quanto pare va eliminato anche quello andiamo con la musica allora noi torniamo subito dopo per raccontarvi negli ultimi minuti che cosa succederà a Taranto nei prossimi giorni bentornati in questi ultimi minuti con Buongiorno Taranto di Buon Mattino vi avevamo annunciato questa mattina la presenza di Giulio Beranek qui da noi ma la notte gli ha portato consiglio male nel senso che oltre al consiglio gli ha portato un febbrone da cavallo e quindi stamattina Giulio si è risvegliato che non stava bene ci ha mandato degli audio che vorremmo farvi sentire per distruggere la sua cammiera ma anche no a parte di battute quindi rimandiamo una voce dell'oltretomba proprio il dio Anubi però in realtà rimandiamo questo appuntamento con Giulio per potervi raccontare meglio i re del Luna Park sì e visto che non possiamo parlare dei re del Luna Park parliamo di due re delle classifiche insomma ci hanno fatto ballare tanto con la loro musica leggerissima ieri erano a Taranto sono con la pesce di Martino che hanno alietato i tarantini nel concerto del teatro Orfeo con l'orchestra della Magna Grecia e tra l'altro il loro ultimo album che ha un titolo stupendo si chiama Archi, Ottoni e Preoccupazioni è proprio con un'orchestra quindi insomma hanno rivisitato quest'album con l'orchestra della Magna Grecia diretta da Davide Rossi un nome anche questo importante lui è stato anche ti ricordi Viva la vita dei Coldplay? come no ecco il violino lo suonava lui wow mamma mia tanta roba tanta roba e quindi insomma un concerto bellissimo dei pezzi veramente uno più bello dell'altro poi riarrangiati con orchestra i pezzi hanno sempre un fascino particolare ma diventano quasi epici è vero devo dire forse il più emozionante di tutti povera patria di Franco Battiato che è stata appunto riproposta e ci ha messo davvero i brividi e poi ovviamente i loro successi ma anche dei pezzi che chi non li segue tanto magari non conosce ma che sono stupendi tipo Rosa e Olindo che ti consiglio la conosco la conosco molto molto bella allora consigliamo a chi non la conosce di andare ad ascoltarla ma come questo anche tanti altri pezzi di Colapesce di Martino detto tutto ciò abbiamo delle loro dichiarazioni raccolte al termine del concerto le ascoltiamo un impegno piacevole perché abbiamo lavorato tanto al disco che è appena uscito è un disco live quindi sentirlo suonare da un'orchestra non è sicuramente una cosa che capita tutti i giorni quindi cerchiamo di godercela al massimo già durante le prove ci siamo subito trovati in sintonia con l'orchestra credo che i brani e la gentilezza sono sicuramente due elementi che hanno aiutato a questa sintonia già abbiamo detto è una pausa fisiologica perché non ci fermiamo da quattro anni praticamente abbiamo fatto tantissime cose insieme e quindi anche per scrivere delle canzoni delle nuove canzoni non essendo degli autori che scriviamo di getto solo per lavoro ma ci teniamo al peso delle parole ci vuole tempo ecco è un impegno piacevole nel senso che per un cantautore vedere i propri pezzi suonati da un'orchestra è forse il traguardo più importante perché le canzoni assumono un'altra dimensione una tridimensionalità che quando le hai scritte non avevano quindi vediamo l'ora stasera ci siamo divertiti tantissimo quindi siamo molto contenti è un'emozione è emozionante come quando l'abbiamo sempre fatta cioè le canzoni hanno questa immediatezza che vivono di una loro vita ogni volta le fai anche in modi diversi hanno comunque un loro significato ecco ma in realtà è una pausa come hai detto quindi sicuramente per scrivere ci vuole una pausa bisogna maturare oggi escono troppe canzoni quindi è un modo diciamo che scrive la canzone ha bisogno delle pause sono fisiologiche quindi in realtà non mi mancherà niente oggi escono troppe canzoni e poi hanno parlato del dare un peso alle parole beh d'altronde loro sono dei grandi parolieri cioè i loro pezzi sono davvero da ascoltare con attenzione per le parole dei pezzi e quindi si prendono una pausa noi riflettevamo da quanto tempo loro dicono sono quattro anni che non ci prendiamo una pausa noi quanti anni sono che non ci prendiamo una pausa e allora ci vediamo domani ma è perché cioè nella vita c'è un momento in cui si può prendere una pausa io me la prenderò a breve una pausa non da buongiorno Taranto di buon mattino è una minaccia non lo so vediamo ci penso benissimo abbiamo una notizia ragazzi alle 8 e 56 una settimana insomma prima di Natale vabbè quello ci sta vabbè insomma una pausetta concedimela te la concedi grazie ben gentile 8 e 56 la chiudiamo qui grazie per essere stati con noi da Marina Luzzi grazie a Francesco Casulli grazie al nostro Peppe Gandelli grazie a Piero Caffio che hanno guidato la parte tecnica torniamo domani dalle 7 alle 9 mi raccomando nel frattempo fate i bravi ma solo se potete grazie a Piero Caffio 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 grazie a Piero Caffio